Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it. Dispiace per la sconfitta, soprattutto dispiace per i tanti tifosi che ci hanno seguito, meritavano una prestazione diversa, però allo stesso tempo abbiamo affrontato una squadra molto motivata che dal punto di vista fisico ci ha messo in difficoltà. E' stata brava nei momenti decisivi, noi poco lucidi, con la scusante però di aver affrontato anche questa partita senza Pini, senza Benebelli, provando a coinvolgere Rosselli nella rotazione del 4 e anche nel secondo tempo, con un problema al poppaccio a Fantinelli, quindi, ripeto, anche se potevamo sicuramente fare meglio e dovevamo farlo, una scusante a tutti i ragazzi che comunque ci hanno trovato, ma in questo momento non è semplice, credo abbiamo speso tanta energia per vincere questo campionato, è stata una stagione lunga, intensa, e oggi probabilmente, soprattutto dal punto di vista dell'approccio e dell'energia, abbiamo qualcosa in meno. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.